Ciao ragazzi, Silvia, per favore scusami, lo so che questo film è il tuo preferito ma non posso mentire. Questo film da Nani Moretti, di Nani Moretti, è nel mio impegnone per Nani Moretti. Penso che, caro diario, sia un po' narcisista, nessuno vuole vedere un film quando per almeno 20 minuti stiamo guardando a Nani sulla sua vespa. Capisco perché alcune persone piace il film, ci sono simbolismo e Nani affascinante, ma ancora non è un buonissimo film come l'altro abbiamo visto. Nella mia opinione, però c'erano qualche cosa nel film che ho piaciuto molto. Penso che i capitoli concentrino nei diversi aspetti della vita di Moretti. La vespa è la sua cosa preferita, ma quando si ferma a guardare o parlare con le persone, lui non mai è contento. Le isole rappresentano la sua relazione con persone, le cose entrambi, la loro relazione con nuovi. Per esempio, ogni isole offre qualcosa di diverso, ma niente sono perfetto per lui. Lui non è contento come nel primo capitolo ed anche come il capitolo prossimo. I dottori rappresentano la sua insoddisfazione con se stesso. Lui prova a imparare la soluzione dai dottori, ma la soluzione è abia dentro se stesso. In conclusione, questo film non ha catturato la mia intenzione e non mi piaccia molto. Era un film così così. Grazie e ci vediamo. Grazie.